I 20.000 volontari dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, domenica 8 maggio, in occasione della festa della mamma, torneranno nelle 3.600 piazze di tutta l'Italia con le coloratissime piantine dell'Azzalea della Ricerca, simbolo da oltre tre decenni della battaglia contro il tumore femminile. Un appuntamento che si terrà anche in città grazie ai volontari della sezione nissena dell'AIRC che inviteranno i cittadini ad acquistare le azalee, un regalo speciale per festeggiare le mamme tutte le donne, sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori impegnati a trovare le cure più adeguate da portare nel più breve tempo possibile, da laboratorio al paziente e migliorare la qualità della vita delle donne. Come ogni anno, come già ha detto lei, torna l'appuntamento con l'Azzalea della Ricerca che AIRC ha scelto come simbolo della lotta contro i tumori in generale, ma in particolare contro i tumori femminili che colpiscono in Italia più di 63 mila donne ogni anno. Di queste forme di tumore voglio ricordare che il tumore al seno è il più frequente purtroppo, ma per fortuna è anche quello su cui la ricerca ha ottenuto i migliori risultati, consentendo di portare la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dal 78% all'87%, però noi non ci accontentiamo di questo 87%, noi puntiamo e dobbiamo puntare tutti insieme al 100% della sopravvivenza. Ed è per questo che AIRC è fondamentale il ruolo che tutti noi possiamo svolgere attivamente nella lotta contro questo tipo di tumori, ma contro tutti i tumori, portando, dando il nostro piccolo contributo come può essere appunto quello dell'acquisto dell'Azzalea che è anche un regalo in occasione della festa della mamma, che certo capisco che magari il costo, il prezzo di questa azalea è più alto rispetto alle azalee, alle altre piante che si possono trovare quella giornata in commercio, però dobbiamo sempre pensare che si tratta appunto di un contributo particolare, del nostro gesto, non dico volontariato, ma insomma partecipazione attiva nella lotta contro questa malattia, proprio per poter dire in quella giornata contro il cancro io ci sono. È per questo che vi aspettiamo numerosissimi, il più numerosi possibile nelle piazze di Caltanissetta, in particolare lo ricordo sono Piazza Garibaldi, Piazza Falcone Borsellino e l'Istituto Testa Secca dove saremo felici di passare insieme questa giornata con voi.